Grazie per l'invito. Vado contro tendenza. Io penso che mai come nella storia di questi ultimi anni il capitale finanziario italiano e i governi che lo rappresentano in questo momento, il trio Draghi, Guerini e Di Maio, mai come adesso abbia dato tanta attenzione al Mediterraneo. Tanto che il Mediterraneo si è allungato enormemente. Ormai l'Italia parla di Mediterraneo dall'Oceano Atlantico sino al Pakistan, dall'Islanda e i mari del nord sino al Golfo di Guinea. Per cui direi che un terzo dei territori abitati, perlomeno in questo emisfero, sono sotto l'attenzione del governo italiano, sono sotto l'attenzione del capitale finanziario, particolarmente gruppi a capitale pubblico come Leonardo Finmeccanica o ovviamente l'ENI. Ed è per questo che moltiplichiamo le operazioni, le missioni internazionali, spendendo più di un miliardo e duecento milioni di euro all'anno, inviando militari a destra a manca, anche fuori dal cappello della Nato. Questo lo dico perché dobbiamo anche a sinistra rompere una lancia, smetterla di dire siamo ancora sudditi perché abbiamo perso la seconda guerra mondiale, andiamo dove ci dicono gli americani di andare. Non è esattamente così. Noi dal primo settembre assumeremo il comando di una flotta non dell'Unione Europea, ma una flotta europea per controllare lo stretto di Ormuz, ossia ampliando quello che è il braccio di ferro tra il mondo occidentale, Israele, i petroregimi del Medio Oriente e l'Iran. Pertanto come se non ci bastassero gli enormi conflitti in cui in questo momento siamo coinvolti. E questa estensione del Mediterraneo che si allunga come, vi ricordate Tirem Molla, cioè questa cosa gigante di plastica che si allunga, ha degli effetti enormi su quello che è il mezzogiorno. Perché ovviamente nel momento in cui inviamo militari a destra a Manca, i militari nel novanta per cento vengono dal mezzogiorno. In questo momento la presenza dell'esercito a due passi dall'Ucraina, a due passi dalla Russia, a due passi dalla Bielorussia, in Lettonia, è fatto dai bersaglieri di Caserta e dei reparti che sono presenti in Puglia e in Calabria, ossia il novantanove per cento meridionali. I cacciabombardieri che sino a ieri erano in Romania venivano dalla base di Grazzanissa, dalla base di Trapani Birgi, dalla base di Gioia del Colle. Direte, vabbè, finalmente sono tornati a casa. No, sono tornati a casa per le ferie di luglio, perché dal primo di agosto ci trasferiamo ancora un po' più a nord, li portiamo in Polonia, perché evidentemente dobbiamo far sentire il fiato ai nostri cacciabombardieri, far sentire di respirare l'aria a due passi dal confine con l'Ucraina e ovviamente anche rispetto alla Russia. Questa politica di estensione del Mediterraneo non può non aver avuto effetti su quello che è il rafforzamento. E Madrid, il verdice, lo ha detto benissimo prima Roberto Musacchio, avrà degli effetti accelerando e rafforzando il processo di realizzazione di questi grandi poli militari che si sono creati, guarda caso, principalmente nella fascia centro-meridionale. Il polo toscano, lo abbiamo visto, Coltano non è, non cade nel, non è una scelta, come potrei dire, di miglioramento delle condizioni di vivibilità delle forze armate, in questo caso l'arma dei carabinieri. No, entra perché c'è un settore particolare che è il potenziamento del triangolo, Firenze, Pisa, Livorno. Abbiamo visto quanto Pisa sia fondamentale in questo momento nelle operazioni di rifornimento militare dell'Ucraina e quanto da Pisa partino anche gli aerei di intelligence che fanno le operazioni di intelligence. C'è l'altro polo, quello delle Puglie, che vede a Mendola ormai capitale italiana dei droni e guardate che sui droni la commissione difesa sta per investire energie, ricerche e ovviamente finanziamenti anche perché a Mendola si candida a essere la scuola dei piloti dei droni delle forze armate NATO e dei paesi extranato tornando al discorso che non stiamo soltanto sotto il cappello degli Stati Uniti e della NATO ma c'è Gioia del Colle che verrà ulteriormente potenziata e rafforzata c'è Galatina in provincia di Lecce che è diventata già la scuola di formazione dei piloti di caccia dei paesi europei della NATO ma di paesi come Israele, dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi, della Turchia abbiamo ovviamente il Polo Sardo che storicamente ha subito in una logica coloniale i processi di militarizzazione di espropriazione delle proprie risorse, dei propri territori eccetera e che oggi attraverso l'asse decimo mannu e i poligoni come Salto di Quirra e Capoteolada diventa il luogo dove sperimentare le guerre del ventunesimo secolo non soltanto per la NATO ma anche per la NATO e anche per i paesi extranato e ovviamente abbiamo il Polo Siciliano e questo andrebbe veramente monitorato e attenzionato perché oggi non rendersi conto quanti processi di militarizzazione abbiano devastato non soltanto dal punto di vista socio-economico ma anche dal punto di vista culturale quanto siano entrati nella formazione, nelle scuole, nel mondo accademico nel mondo diversitario quanto stiano entrando oggi nell'economia nel modello anche di trasformazione delle start-up delle industrie quanto anzi diventino il Polo Attrattivo di quei pochi soldi del PNNR che vengono destinati al mezzogiorno che non sono soldi per migliorare le reti viarie non sono soldi per migliorare ridurre il gap nel sistema accademico scolastico o nel sistema sanitario ma che vanno anche lì nella logica del finanziamento di tipo prettamente coloniale in cui le trasnazionali della telefonia cellulare le trasnazionali della cyber security si trasferiscono al sud riproducendo il modello delle gabbie salariali delle zone franche dove ovviamente succhiare i fondi capitalizzare enorme immagino lasciando fra qualche anno aree di devastazione in questo senso Madrid accelererà tutta una serie di progetti di cui già ne eravamo a conoscenza ma che oggi ci vengono formalizzati arriveranno 70 militari statunitensi in più probabilmente in questo momento schierati da schierare ad Aviano o a Vicenza con missili a breve raggio ma ci dice il generale Tricarico ex capo di stato maggiore dell'aeronautica uomo legatissimo prima a Cossiga oggi a Marco Migniti esponente di un modello culturale del mezzogiorno lui regino lui propugnatore del rafforzamento dell'Italia in questo grande Mediterraneo attraverso la sua fondazione Leonardo Medord Medor Mediterraneo Oriente cioè esattamente in questa visione di promozione del mezzogiorno come gendarme armato gendarme eh del complesso militare industriale proiettato ci dice no ma non ci bastano soltanto i missili a corto raggio abbiamo bisogno anche di quelli a medio a lungo raggio esattamente proponendo e se voi vedete quante volte c'è la parola deterrenza nel documento votato a a Madrid io tradurrei deterrenza nucleare tolgo nel nucleare ma è su quello che si punta e ce lo dice Tricarico riaspettiamoci i cruis trent'anni dopo riaspettiamoci che nel mezzogiorno d'Italia un territorio verrà prescelto per i nuovi sistemi missilistici perché la risposta alla Russia la risposta a questa escalation che per ora è soltanto dialettica in cui il nucleare si usa soltanto come minaccia ma che diventerà diventerà eh di fatto fisica in Sicilia in cui si andrà a votare nel mese in cui si andrà a votare nel mese di ottobre in cui chi ha gestito il potere legandosi alla borghesia mafiosa e rappresentando la borghesia mafiosa nelle istituzioni regionali e enti locali fa finta di non sapere che il modello siciliano è stato un modello esclusivamente dovuto al militare Sigonella verrà ulteriormente ampliata cento ettari di esproprio la base di Augusta ampliata perché ovviamente nella proiezione a est nella proiezione a sud dobbiamo avere un polo energetico un polo di eh trasferimento delle armi eccetera fondamentale si ampliano nuove strutture o vengono recuperate strutture che hanno rappresentato anche il paradigma di un modello di colonizzazione della Sicilia il modello del confinamento della sperimentazione delle politiche di repressione delle migrazioni l'ex cara di Mineo che è stato per anni dove essere il modello dei centri d'accoglienza ma che invece è stato il laboratorio sperimentale proprio per il confinamento di queste politiche che poi sono diventate politiche europee attraverso Frontex oggi c'è chi spinge alla sua riconversione in un grande eh cyber park sarebbe il modello israeliano riprodotto in salsa meridionale ovviamente attingendo ai fondi del PNMR ma si parla anche del riutilizzo del la ex base missilistica di Comiso che non è riuscita a decollare come aeroporto per trasformarla in una base sperimentale per i lanci eh dei microsatelliti anche questi attingendo ai fondi del PNR e costruendo attorno a sé un consenso che vede la borghesia che vede gli enti locali che vede le università e che vede le industrie eh o pseudo industrie che sono alimentate. Chiudo dicendo che di fronte a questi scenari che sono drammatici perché sono scenari che riproducono la guerra riproducono l'economia e il modello di guerra però io credo che questa guerra abbia aperto eh scenari nuovi noi stiamo assistendo che nonostante il bombardamento mediatico a cui siamo oggetto e veniamo criminalizzati che cerca di porre il problema della complessità di questa guerra nonostante questo più del sessanta sessantacinque per cento della popolazione italiana continua a dichiararsi contro la guerra continua a rifiutare il modello della guerra e non è un caso che si stiano moltiplicando iniziative su tutto il territorio nazionale non è soltanto coltano ma c'è la Sardegna c'è un estate piena in Sicilia con campeggi che porranno il problema proprio del rifiuto della militarizzazione ci sono ampi settori del mondo della scuola che si stanno ponendo enormemente il problema della militarizzazione delle istituzioni scolastiche dell'accademia e dello stesso pensiero proprio per creare il cittadino modello per le guerre del ventunesimo secolo io credo che dobbiamo starci dobbiamo starci in questi momenti in queste lotte lotte che sono convinto cresceranno a settembre perché l'autunno non potrà che essere caldo di fronte alla devastazione dell'economia di guerra ed ecco che per la prima volta nella storia recente avremo la possibilità di strappare al populismo di destra la lotta che viene il bisogno di di opposizione al modello neoliberista arricchendolo e creando veramente il fronte di chi lotta contro le guerre contro l'economia di guerra contro le politiche di guerra riponendo quello che storicamente è stato una delle ricchezze anche dimenticato dalla sinistra storica nuova sinistra un mondo operaio un mondo del lavoro profondamente antimilitarista profondamente il rifiuto alla guerra grazie a tutti i primi